e ragazzi siamo passati da pirlo vattene pirlo out fallimento totale a pirlo rimani se il nostro mito pirlo ha vinto due trofei conte 1 e come se andassimo da fabrizio corona e diciamo tu ti sei trombato solo belen io mi son trombato la figlia e la moglie di fantozzi quindi io due e tu uno quindi ragazzi vi fa capire il grado di disperazione dei hobby ma in generale non voglio attaccare tizio ma anche perché il mio canale non è un canale di dissing perché a me piace più il contatto fisico però comunque le chiacchiere se le porta al vento è inutile che facciamo prendiamo in giro e stighiamo le persone che stanno a chilometri di distanza quindi di che cosa dobbiamo parlare quindi in tutto il mondo social quindi persone anche che non conosco persone che conosco amici miei fraterni tutto quello che tutto quello che c'è di gobbo oggi c'è pure chi si è vantato che due trofei pirlo un trofeo conte ok quindi è molto più importante la coppa italia la supercoppa del nonno rispetto a uno finale di europa league una finale ok di europa league e un campionato stradominato spaccato in due dove abbiamo umiliato tutte le rivali abbiamo battuto il milan 3 a 0 asfaltandolo abbiamo battuto la juve in casa dove potremmo vincere 15 a 0 l'atalanta non è passata e abbiamo vinto il napoli non è passato abbiamo abbiamo battuto tutte le rivali eh no ma abbiamo vinto solo un trofeo sì ma il trofeo si chiama questo campioni d'italia ragazzi il trofeo è questo quindi neanche io invito i tifosi dell'inter neanche a rispondere a coloro che pensano che pirlo sia un grande allenatore più bravo di conte e pensano di aver vinto la coppa campioni senza sapere che è la semplice coppa italia che cristiano ronaldo ha snobbato si è tolto subito la medaglia non ha non ha spiccicato neanche un sorriso ragazzi e questo vi deve far capire di come stanno messi male adesso si devono giocare all'ultima di campionato come la peggiore delle inter di zaccheroni la qualificazione qualificazione in champions league cioè qualificazione in champions league stanno giocando il quarto posto non il primo non il secondo non il terzo il quarto posto questi rischiano di arrivare i quinti però pirlo ha vinto due trofei la moglie di fantozzi pina e mariangela mentre l'inter ha vinto solo un trofeo benen rodriguez o diletta leotta o chi cazzo volete voi iscrivetevi al canale attivate la campanella lunga vita al maestro pirlo magari vinca tutti gli anni due trofei come quest'anno magari magari tutti gli anni quinti ciao ragazzi iscrivetevi al canale e di fondamentale importanza attivate la campanella per avere le notifiche e sentire tutte le cazzate del sottoscritto ok quindi con il grande valter zenga e a casa del bauscia nero blu manuel vi saluta iscrivetevi non fate i cornuti ciao ragazzi pollice su